Tiziana Rocca 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 Il sindaco di Tormina e Ligio Giardina che è un po' lui l'anima quest'anno, lui è il suo primo anno veramente da sindaco perché l'anno scorso era arrivato proprio il giorno che io ho iniziato a fare la 50esima edizione e quindi un po' quest'anno è lui il padrone di casa, aprirà lui il festival, darà lui il via alle danze di apertura e quindi vuole continuare su questa strada perché comunque crede che Tormina è un gioiello che va valorizzato sempre di più. Quindi veramente un grazie a Ligio Giardina, al sindaco che è molto avanti e capisce che è importante puntare su questa manifestazione sempre di più.